Il tesoro più prezioso dell'Europa è la famiglia. Papa Francesco lo ha sottolineato ricevendo in Vaticano la Federazione delle Associazioni Cattoliche di Famiglie in Europa a vent'anni dalla sua fondazione. Le famiglie ha aggiunto non sono pezzi da museo, ma lievito che aiuta a far crescere un mondo più umano, più fraterno, dove nessuno si senta rifiutato o abbandonato. Il Pontefice ha ricordato che non c'è miglior alleato per il progresso integrale della società che favorire la presenza di famiglie nel tessuto sociale, famiglie come base della società capaci di assicurare alle persone il bene integrale. Quattro, secondo il Papa, le crisi che attanagliano l'Europa, l'inverno democrafico, la crisi migratoria, quella lavorativa e quella educativa. Campi nei quali la Federazione cerca di dare risposte a misura di famiglia, ma è necessario pensare al futuro e non a soluzioni istantanee. Il lavoro da fare è rimarcato e complesso perché il servizio alla vita è servizio verso il prossimo, verso chi è in difficoltà, verso i migranti. Vi toccherà, aggiunto Francesco, essere il fermento che insegna ad altri a lavorare insieme, rispettando le legittime differenze e particolarità. Oggi, più che mai, si vede necessaria una cultura dell'incontro in cui si valorizzi l'unità nella differenza, la reciprocità, la solidarietà tra le generazioni. Questo capitale familiare è chiamato a impregnare le relazioni economiche, sociali e politiche del continente europeo. Lo stile familiare che voi proponete di diffondere non è soggetto ad alcuna ideologia contingente, ma si basa sull'inviolabile dignità della persona, ed è in base a tale dignità che l'Europa potrà essere realmente una famiglia di popoli.